Grazie. Mi perdonerete se sono un po' emozionato, ma al netto che per me la mia città è più importante sicuramente della mia nazione. Lo dico da parlamentare e credo che la vicinanza a Genova faccia bene a tutti e faccia bene soprattutto ai parlamentari che devono stare sul territorio e occuparsi delle robe del territorio. Per quanto riguarda Marco, 5 anni fa spettava noi il candidato sindaco su Genova. Normalmente le forze politiche a livello nazionale cercano di massimizzare i loro voti candidando una persona schierata, una persona identificabile, una persona legata. Io avevo conosciuto Marco anni prima, è stato quello che all'inizio ci eravamo incontrati anche casualmente nell'azienda Dovera e da subito ho capito che era una persona che amava questa città molto di più di altri politici che erano diventati sindaci o avevano fatto altre cose. Ho avuto un'esperienza in Ligure Digital, l'ha trasformato con l'azienda e quando abbiamo dovuto scegliere con Giovanni il candidato io non ho avuto dubbi. Nonostante che magari dubbi anche a livello nazionale ce ne fossero perché lui non aveva mai fatto politica, non voleva neanche fare politica. Cioè in realtà lui aveva portato una multinazionale a Genova per poter nel tempo libero andare in barca e non gli abbiamo fatto comprare la barca che quest'anno però ha preso perché se no stavolta non si ricandidava giustamente. E dopo una vita di lavoro ha deciso di occuparsi della città, ma l'ha fatto come sindaco di tutti. Io Marco Bucci me lo vedo sindaco, non me lo vedo né di uno schieramento né di un altro schieramento, lo vedo il sindaco, quando parla parla come il sindaco. Parla a tutti. Allora io da genovese sono onorato di avere una persona che si prenda a cuore la mia città e se ogni tanto anche litighiamo magari su alcune cose abbiamo vedute diverse, però trovare una persona come questa è difficilissimo. Non a caso oggi di Genova se ne parla a livello nazionale, se ne parla a livello internazionale, non solo per il ponte, per quello che è successo e della grande capacità che ha dimostrato la comunità genovese tutta, ma grazie a un sindaco che ha saputo aggregare le anime diverse della città e non dividere. Ma se ne parla perché Genova è tornata a crescere. Io casualmente alcune settimane fa ho incontrato durante il tempo lì un amministratore delegato di un importante istituto bancario e mi ha detto guardate se voi a Genova continuate in quella direzione tutti i dati dicono che voi sarete la città in Italia con l'aumento maggiore dei valori delle abitazioni e delle residenze. Perché Genova oggi è una città in cui da New York a Londra e dalle altre parti tutti si interrogano se vincere la sfida della profonda trasformazione iniziata cinque anni fa. Beh la sfida sta a noi, la sfida sta nei cittadini genovesi che il 12 di giugno devono decidere. E non ci può essere a mio avviso un'indecisione che ci mandi a un secondo turno. Deve esserci una netta chiara presa di posizione o noi siamo convinti che questa città debba diventare la capitale del Mediterraneo e debba tirare investimenti e dare il futuro alle nostre famiglie. E allora ognuno si toglie un po' la sua giacchetta di parte e lavora per la propria città e dà fiducia a un uomo che si è messo in discussione e si è messo a disposizione di tutti, non solo di chi l'aveva presentato ma di tutti. Oppure perdiamo la grande capacità che oggi è a Genova che è quella di mostrarsi un modello virtuoso e un modello che sa parlare a tutte le anime che ha una grande città. Quindi io su questo ti ringrazio, penso che noi e sai che la mia forza politica ti è assolutamente vicina e collaborativa perché non perché tutto quello che pensi tu lo pensiamo noi ma perché in questo momento al Paese bisogna dare una scossa. In un momento così difficile dove la politica è vista così male, dove tutti i cittadini oggi hanno paura, non sanno cosa sta succedendo, avere dei punti di riferimento a livello locale, in garro dimostrare che si sanno spendere i soldi, si sanno fare le cose e si fa far lavorare la macchina pubblica è un'esigenza che non ha solo Genova, l'ha tutta l'Italia. E quindi da questo punto di vista non vincere il 12 di giugno ma anche solo andare al ballottaggio vuol dire perdere l'occasione di dare una dimostrazione come genovesi che siamo quelli del Ponte Morandi, che siamo quelli che ci siano rimboccati le mani, che siamo quelli che quando arriva l'alluvione non aspettiamo i soldi da Roma ma ci mettiamo il giorno dopo a spalare il frango per le strade. Questo siamo noi genovesi, grazie Marco perché ce lo ricordi tutti i giorni e devo dire che su questo ti abbiamo un po' rovinato la vita, insomma perché ti meritavi di avere più tempo libero però ti posso dire che è il motivo per cui molti ancora oggi a Genova hanno voglia di dedicarsi alla cosa pubblica e sono qua stasera per darti loro supporto fino in fondo a pancia terra come diceva Lilli perché credo che anche gli stessi eletti hanno dimostrato in questi anni di essersi stati vicino, gli assessori l'hanno dimostrato anche se come si ricorda tu spesso non hai un carattere facile ma alla fine avete sempre trovato il modo di andare avanti e ancora adesso sono tutti pronti a rilanciarsi in una grande campagna elettorale. Grazie a tutti, viva Genova, viva Marco Giubucci, viva la Lega.